in eurogruppo si chiede conto a gualtieri della situazione politica sostegno ma sul ricoveri c'è da lavorare stabilità riforme no ad un ritorno di matteo salvini al governo il tutto condito dalla preoccupazione per i numeri del governo conte in aula la videoconferenza dell'eurogruppo oggi è servita anche per puntare i riflettori europei sulla situazione politica italiana il presidente pascial donò ne chiede conto al ministro roberto gualtieri il quale ha degli scambi sul tema anche con il commissario e paolo gentiloni e con altri ministri dell'economia europei ne esce un quadro di sostegno al governo che però sembra assumere le fattezze scaramantiche di dita incrociate affinché il parlamento italiano riesca a trovare basi numeriche solide per assicurare la riuscita del recovery plan a bruxelles interessano i numeri la stabilità di fronte a questo viene spiegato da fonti informate chi sta a palazzo chigi è un problema minore giuseppe conte se ancora sarà in carica avrà modo di testare personalmente la temperatura europea giovedì nella videoconferenza con gli altri leader ue sull'emergenza covid finora tutti sono stati molto freddi almeno pubblicamente nessun attestato di solidarietà per giunta insieme agli altri piani nazionali anche la bozza italiana finisce oggi sotto la lente dei ministri finanziari dell'eurozona e il giudizio è al minimo ancora sospeso per non dire negativo sulla bozza c'è molto da fare la commissione europea chiede dettagli riforme progetti che disegnino l'italia del futuro rinnovata ammodernata capace di mettere mano a infrastrutture carenti di trasformare la propria economia in economia sostenibile ben lanciata sul piano del digitale il piano italiano dice gentiloni converge sui target indicati dall'ue ma come altri piani la bozza italiana deve essere discussa e rafforzata dal punto di vista delle riforme in linea con le raccomandazioni della commissione per ogni stato membro e con gli obiettivi i dettagli sui traguardi che si vogliono raggiungere